Antonio Marzo, questo ponte che ormai resta nei ricordi, avviata la ricostruzione ma nel suo crollo, ormai un anno fa, ha causato prima di tutto grande dolore per le 43 vittime, Cordoglio, c'erano anche fra l'altro dei camionisti, ma ha causato un problema all'economia, rimasta tagliata la Liguria con ripercussioni pesantissime. L'autotrasporto sicuramente ne risenta ancora oggi, lo stato dell'arte qual è dopo un anno da Ponte Morandi? Attualmente hanno sistemato la bretella che dall'uscita di Genova Aeroporto va a Genova Ovest, si passa per Viale Canepa, il problema grosso è che all'uscita di Genova Aeroporto si forma un imbuto pauroso. Per andare a Genova Ovest, passando praticamente dagli ingressi del porto, più delle volte c'è qualche problema, soprattutto adesso con tutti quelli che salgono sui traghetti, c'è un grosso problema di traffico, diciamo che attualmente ti ci vuole quasi un'ora per ricongiungerti con l'autostrada a Genova Ovest. Di notte no, però di giorno purtroppo è un disastro, anche perché se c'è un qualsiasi problema sul porto i camion si fermano all'ingresso e bloccano via le canepa. Voi con i vostri camion, quel ponte che ora non c'è più, quello che vediamo in queste immagini di sfondo, lo avrete percorso migliaia di volte, ma avreste mai pensato che poteva succedere una tragedia di questo livello? Assolutamente no, assolutamente no, di fatti quando è crollato ci ho messo, ho passato un'ora a cercare di capire che era crollato, che noi lo chiamavamo Brooklyn, ponte di Brooklyn, cioè non me la davo, proprio non, mai pensavo che fosse successa una tragedia del genere. Quindi non mi dava l'idea, come molti dicevano, eh ma fin dalla costruzione era un ponte troppo ardito, ma c'erano problemi, poi in realtà insomma c'è rimasto per 50 anni, quindi voglio dire, non è che... Diciamo che i problemi qualcuno li conosceva, i problemi di quel ponte qualcuno li conosceva e ha insabbiato tutto, perché due anni prima avevano dato tutto in mano ad un tecnico e questo ingegnere aveva detto in maniera chiara e forte che il ponte praticamente aveva il 30% di ferro in meno e non era agibile, solo che qualcuno evidentemente se ne un po'... Avevano fatto un piano di interventi troppo lungo, dovevano chiudere tutto e rifare e basta, non c'era altro da fare, non c'era altro da fare, comunque il problema della Liguria, attualmente è che se tu chiudi l'autostrada, facciamo solo un'ipotesi che se invece che crollare lì, crollava verso Arenzano, e la Liguria dell'Ovest restava chiusa, cioè non puoi andare con i camion, non hai altre strade, in quanto sull'oreglia non puoi passare, un'oreglia bis che dovevano fare, che dovrebbero fare, che chissà quando la fanno non c'è, di conseguenza col camion, per andare, faccio un esempio, per andare a 20 miglia, se crollava un ponte, l'autostrada all'altezza di Arenzano, c'era da fare il giro di, praticamente, del Fregius, con dei costi inimmaginabili. Speriamo solo che con gli anni si diano da fare a cercare di rimediare in qualche modo questa inconvenienza.